Ce l'ho a casa, ecco il palo, ce l'ho proprio a casa quel palo, che mi sono portato dietro e l'ho portato a casa Occhio a quello che dici, raccontaci un po' quella disambitura perché è anche lì presente davanti al teleschermo, anzi proprio in presenza e quindi mi sono visto tutta la scena con sta maschera tutta storta, di questo palo che andava, raccontami un po' Follia Tu ti sei accorto di tutto quel casino che è successo?